Allora, sono venuta al Carrefour perché fa un freddo boia e ho detto che una perfetta casalinga deve fare la spesa. Allora, ho fatto la spesa, ovviamente ho preso delle cose, più che altro mi serviva fare la scorta del caffè perché trovo un caffè da Carrefour molto buono e molto più a buon prezzo dei vari brand italiani. E niente, poi c'era questo shopping dorata, mi mancava e quindi lì nello specchio ci sono io. Non so se si vede, va bene, ma comunque il motivo, ecco, sono laggiù, quella con lo specchio che fa ciao, ciao. Ok, sto bevendo un cappuccino, nel motivo di questo cappuccino con un bagel, perché c'era lo stand della miscia. Allora, vi dico che è uscita una nuova miscia, ho preso il campioncino piccolo che si chiama Miscia Vita, all'SPF. Questa è nuova, ce n'era anche un argento, ma senza SPF e quindi è da provare, vi saprò dire. Poi, siccome, vabbè, mi ha regalato dei campioncini, c'erano tutte quelle altre cose che ho visto, e ho visto due smaltini di un colore che non ho, perché non ho questo grigio pallidissimo, non ce l'ho. e ho quello di Chanel che è scuro, e questo mauve, lilla chiaro, che non ho, no, ho fatto il contrario, forse. No, no, ho fatto proprio il giusto, il grigio e il mauve. E poi, e dov'è l'altro? Ah, aspettate, che mi è caduto nella borsa, probabilmente. Uno, ah, aspettate, mannaggia. Ah, eccolo. Un verde natalizio, che insomma, li ho presi perché, vabbè, questo verde non lo avevo. E poi costavano qualcosa come 3 euro, ognuno, con tutti gli Chanel che compro, evidentemente. Niente, era una cosa così veloce che probabilmente sarà solo per Lucy. E adesso a giro vi saluto. Ciao ragazze, freddo boia. Cioè, non ho mai conosciuto un boia, ma penso che sia un personaggio terribile. Niente, per cui domani si rientra al lavoro. Io mi godo il mio bagel, shanty shanty. Bagel, cappuccino. Ciao. Ah, ovviamente c'è Allegra, che è infagottata. Non si vede, Allegra, fatti vedere. Allegra. Non si vede, è infagottatissima. Baci.